Il 6 luglio prossimo, come ormai noto, si svolgerà a Sciacca l'evento Dolce e Gabbana, riflettori accesi non solo da parte dei tanti curiosi, ma soprattutto da parte delle forze dell'ordine per quello che sarà un evento più che blindato. Saranno attuate infatti tutte le misure di sicurezza previste per i grandi eventi. A disposizione dei due stilisti il Palazzo Municipale di Sciacca, con il primo piano e l'atrio superiore, che saranno interessati all'evento di moda e l'atrio inferiore per il parti successivo. Non solo l'ex commento dei Gesuiti, gli ospiti di Dolce e Gabbana avranno la possibilità di ammirare la Chiesa Madre e la porzione del centro storico che sarà off-limits. La zona rossa per il 6 luglio interesserà il Corso Vettorio Emanuele, Vicolo Duomo, Vicolo Gino, Vicolo Tommasi, Via Roma, Via Vincenzo Venezia, Vicolo San Maritano, Discesa Campidoglio, Piazza Scandaliato, Piazza Mariano Rossi, Vicolo Vetrano, Vicolo Ficani, Via Garibaldi, Piazza Farina, Piazza Bevilacqua, Piazza Purgatorio e Piazza Don Minzoni. Residenti e commercianti di quest'area sono stati invitati oggi all'amministrazione comunale ad un incontro che si svolgerà giovedì prossimo alle 9 nella Sala Blasco del Palazzo Municipale. Saranno illustrate le decisioni assunte per lo svolgimento della manifestazione e i provvedimenti che riguarderanno questa porzione del centro storico della città. Informazione che i residenti e commercianti attendono con particolare interesse da giorni per capire se, come e quando potranno entrare o uscire da loro abitazioni o a quali regole dovranno attenersi. Pare che saranno rilasciati dei pass, c'è chi parla addirittura di braccialetti per i residenti, chi ipotizza addirittura il divieto di transitare nella zona del centro storico riservata a Dolce e Gabbana e i loro ospiti, posto che l'evento all'interno del Palazzo Municipale sarà blindato e riservato ai VIP. Per ciò che attiene alle norme di sicurezza andremo sicuramente oltre quelle predisposte in occasione della cena in piazza scandaliato degli ospiti del Google Camp nel 2016, alla quale peraltro i saccensi residenti in quel tratto di Corso Vittorio Emanuele avevano avuto accesso.